Vita da single per Antonella Fiordalisi. La piccola Antonella, come sappiamo, è tornata single, anche se si sente ancora con Edoardo, ma solo per rispettare degli impegni presi in precedenza. La ragazza in questi giorni si sente molto sola, infatti è proprio lei che fa vedere ai suoi fan la sua vita da single, self da sola e addirittura un diario dove scrive i suoi pensieri. Chi non l'ha abbandonata mai sono i suoi fan che per rallegrarla un po' continuano a mandarle regalini come quell'orsetto giallo che lei adesso ha deciso di darle un nome. Vicino a lei il suo cuscino preferito quando con lei c'era pure il suo Edoardo. Intanto il suo amico Daniele, dal Moro, anche lui ha chiuso con Oriana da poco. Ha detto su una diretta Twitch che è molto dispiaciuto per la crisi tra Antonella e Edoardo, ma pensa che tra loro possa comunque ritornare il sereno. Questo lo sperano tutti i fan dei Donnalisi, ma purtroppo per adesso Antonella è single. Voi che cosa ne pensate? Aiutate Antonella a dare un nome all'orsetto giallo. Voi come lo chiamereste?